So che sei smutato lo sento Ah e allora Oh 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 Mi ho chiuso Tocchino Tocchino Ciao a tutti ragazzi sono Fabici Ciao a tutti Sono qui i nuovi tu sono con iFan Mi menti sempre Scusa Sono FabiJ Sono in un nuovo video dei DSG Siamo in un video Me la mappazzuolo 85xb Sto qua lo spedito sull'allora Eh vabbè dai Ma perché mi incontro Perché incontro Scusa Diamo ad un bip Questo non mi semb- No non hai bestemmiato Oh si Porco Eh adesso Che testa di cazzo sei Dai Non mi stacco questo perché è full Smettila ti prego ti prego smettila ti prego Oh Ok questo è andato Hop 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 e hop A posto Bam Via Ok devo parlare del fatto che ringrazio Slime Per avermi caricato un video Mentre mincero Quindi grazie Slime Lascerò il suo canale in descrizione Anche se non ha tanto bisogno della mia pubblicità Della mia Degli sponsor Perché ha tanti più iscritti di me Quindi grazie Slime Eh Slime si vanta No Invece si Se lo dice lui è ragione Quindi Slime non ti vantare No scherzo Seconda cosa Non avrete notato Vabbè questo dillo te Tanto ormai dillo se hai memoria vai Che no ok Se avete notato Praticamente non ci sono più video di OITC O altri mini games tipo Go kart Tipo la mamma di cula Perché hanno meno Hanno meno coinvolgimento Hanno meno coinvolgimento E quindi Non li porta più Perché cioè Se hanno meno coinvolgimento Vuol dire che a voi non piacciono E se a voi non piacciono Vuol dire che hanno meno coinvolgimento E quindi Che curano di carica Perché hanno meno coinvolgimento Quindi vuol dire che non piacciono La gente non li segue Perché hanno meno coinvolgimento Ecco Ecco Almeno l'hai spiegato il modo migliore Di come Lo spiegavo io Lo spiegavo io Era tipo Ma che testa di cazzo questo ragazzo Ecco 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 Lo spiegavo io Era tipo Mezzo balbettante Perché non so parlare C'è uno avanti a te Ne sono accorti Tipo è morto Perché non ha vita Aia Adesso ti fa le stave Oh Oh Prodigy p dia 10 10 Jet venta concentrata A parte A parte A parte A parte Baita A parte Questa Giflo Poi 주� Taking se mi attaccavano ero fottuto attaccalo attaccalo bravo panda aspettate aspettate hello motherfucker dai wow forte ma ce la fai ad uccidere uno dio cristo no non ce la faccio va bene anche se hai appena ucciso uno due cuori a un e mezzo e direi che per ora me ne sto calmo e mi faccio i cazzarola mia vai vai nel tuo jet privato alla tua destra duns 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 poi dovevo dire che c'è uno dietro di te ti vuole inculare a sangue oddio ti vuole inculare a sangue lo so la texture che sto usando è la gold moon è la gold moon v2 di qualcuna casta no v2 niente l'avvio non sollevato scusa mi vuole starvi e vi lascio il video in descrizione banana ma di forestaio di giunglai prego uccidetelo prego è un favore personale vi pago uccidetelo però vi pago in carte di credito proprio vi dobbiamo carte di credito scadute vi pago in soldi del monopoli aiuto oh team da 18 team da 4 team da 4 0 g fai team testa di full ferro c'è uno che sta venendo dall'altro lato è team q wow 10 10 gm no 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 rompì 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 mi sa che è uno che è polato a me fotte proprio il cazzo mi fotte ho lasciato una cosa libera da dove possono salire eh ma dovrò salire anch'io se mi buttano giù mi ha lasciato stare finalmente solo però sono solo perché sono solo xd tema 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 hai preso 2 magari potessi prenderli certi voti magari tema 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 no clean up tema tema ma magari no io non sono turcu turcu muniscus hai rec vediamo se mi aiuta tema tema c'è quello di prima amico dietro 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 pietro io ti ho avvisato il si sente ma come si sente forte piano si sente abbastanza ma questo ma siete in team 200 yes adesso cercarete su youtube e trovo uno di 200 iscritti channel name fams fa di rai carico motua di rai chanel name fa di rai channel name fa di rai cd rai 25 v week murray chanel ciao. vai lo spawn no no prima cosa no no scherzato aspetta dico se c'è qualcuno allo spawn in preview anteprima mondiale non si ma che cattai amici vabbè del servire la realtà che 200 iscritti per uscire ma come i suoi rifai micci ma cosa dici asili iscritti l'unico un'altra l'unico marina no max tipo questo questo pezzo lo potreste anche non lasciare nel senso eh adesso si però tipo uo 1 2 fermo fermo amico ti faccio tutto il tempo sta turca ma firet berna questa anche se muoio la carico perché è troppo epico mi sono tutti i merz non mi ucciderai mai io ho 200.000 iscritte oh il polpo il polpo il polpo il non so che cosa sto dicendo grande amico teamer oh oh sono gasato questo video starà durando gli anni vabbè io lo ho anche se muoio vai amico i have to kill you i have i have wreck please yes grazie non ci credo ti sei finto uno di 200.000 iscritti ma non ti fai schifo oh dio ce l'ho fatta ma non ti fai schifo ma non ti fai schifo io basta questo video rientrarà nella storia del sud e la top 5 di storm se video vi è piaciuto vi ricordi lasciare un lasciato un dislike ricordi sono mi piace ricordi di iscrivervi al canale di justyron ecco vi ricordo di non iscrivervi al canale di iron e buttarlo in like iscrivetevi quanti like deve arrivare a questo video 15 come ha detto all'inizio video 15 15 15 like e basta grazie per aver visto il video e ciao a tutti bella